bene ragazzi adesso farò un video molto realistico siccome non ho trovato il cran cavaliere ho deciso di shopparlo nello shop perché è una carta talmente fortissima aspettate che si carica ecco andiamo un secondo prima abbiamo questi bollox meno tre meno due meno uno abbiamo il cran cavaliere l'abbiamo shoppato e lo mettiamo a posto dell'orda degli disgherri adesso lo andiamo a provare nel campo di prova lo proviamo adesso qua si non avrei una fortuna mio cano che adesso ti butto questo il cran cavaliere non è l'abbiamo non è vero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh avete visto che danno fa ragazzi il gran cavaliere è una potenza è una potenza Non male che era battaglia finta ragazzi, che già non sta prendendo più la connessione. Ok ragazzi, direi che siamo in corrento. Avete visto che danno ha fatto il Gran Cavaliere? E' una potenza, ma l'ho scioppato. L'ho scioppato. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritti. E ciao. Grazie. Grazie.